L'arresto del boss di Castelvetrano, considerato la primula rossa della mafia, ha portato indietro la memoria al novembre del 2019, quando nella marca e poi in tutta Italia si diffuse la notizia che in una cantina in località Campo di Pietra, frazione di Salgareda, si sarebbe rifugiato per qualche giorno uno degli ultimi grandi capi della criminalità organizzata siciliana, che da oltre 30 anni era iscritto nel registro del Viminale tra i più ricercati d'Italia. Il boss avrebbe usato come nascondiglio la casa del palermitano Vincenzo Centineo, coinvolto nell'ambito dell'inchiesta sui casalesi di Eraclea e la notizia del suo passaggio in Veneto si era sparsa rapidamente. Era uscita da un informatore, adesso non so come funzioni, che diceva che aveva soggiornato in una cantina gialla, se non ricordo male le parole vecchie, insomma, in una cantina gialla qui a Salgareda. Ora, cantine gialle ce ne sono tante, ma io conosco anche tutti. Io non penso, insomma, allora, se non ricordo male gli scambi che avevamo avuto con le forze dell'ordine, con la prefettura, dicevano che la notizia non era attendibile, però io questo non lo so. Le rivelazioni furono allora quelle di Emanuele Merenda, ex esattore della mafia e membro di un'organizzazione criminale in Veneto, smantellata poi dall'inchiesta sull'infiltrazione della camorra casalese sul litorale. A Salgareda il sindaco Favaretto ricorda l'impegno collettivo contro l'illegalità e mostra con orgoglio un segno della vicinanza a chi lottando contro la mafia ha perduto la vita. Abbiamo pensato a questo murales anche per il significato che ha nel nostro territorio, dalle notizie che si sentono, queste eventuali infiltrazioni e anche il luogo è stato scelto apposta, vicino alle scuole, vicino ai plessi sportivi, in modo da dare un grosso impulso verso i giovani, verso i ragazzi. L'arresto di Matteo Messina Denaro non è solo un forte segnale di legalità ma anche di speranza per il futuro del paese. È il commento del presidente della regione Luca Zaia a seguito del blitz che ha messo fine alla latitanza del pluriricercato.